Ecco Vice Sindaco, tanti gli attacchi nei suoi confronti, insomma anche del Sindaco, delle nostre testate, tanti colleghi che sono stati attaccati sulle loro piattaforme social. Intanto da quel punto di vista noi abbiamo capito che lei ha formalizzato questa denuncia, però ecco ha sempre detto non si molla di un centimetro. No, non si molla di un centimetro, la denuncia è stata fatta per dare un segno, per dare un significato anche a questa cosa perché anche da una cosa stupida si può fare una cosa intelligente. Quello che io chiederò, laddove dovessero essere individuati, è un mille euro a messaggio e stanno aumentando, quindi siamo già un milione e mezzo di euro. Mille euro a messaggio da devolvere completamente all'ospedale San Donato e alle pubbliche assistenze e un po' di giustizia riparativa, cioè vadano a vedere quello che succede davvero. In terapia intensiva, negli ospedali, nelle nostre misericordie, Croce Rossa, Croce Bianca, cioè escano da quella dimensione astratta e un po' buffa nella quale sono e entrano nella dimensione della realtà. Io lo dico sempre, faccio l'assessore alla sanità, non alla fantascienza, però alla fantascienza avrei un reato perché dice cose che non è sostenibile dire. Senta, proprio da questa settimana la Regione Toscana sta portando il camper vaccinale di fronte alle scuole, ci sono iniziative anche che ci riguarderanno? Noi siamo disponibili a dare tutti gli spazi, tutti i supporti logistici e non perché questa cosa possa essere moltiplicata. Questo era prima e ora, era con i tamponi e con i vaccini e con la diffusione vaccinale, lo abbiamo fatto anche durante la fiera, durante la città del Natale. Insomma, tutto quello che da parte nostra si può fare perché venga facilitato, reso più agile, più semplice, più veloce, noi lo faremo. E sul fronte della piscina comunale potrebbero esserci a breve delle novità. Dopo la nota volontà da parte del gestore di non chiedere il Green Pass agli avventori, come richiede la normativa, il Comune ha proceduto ai controlli e sono state combinate diverse multe. Una di queste però ha un difetto di notifica e quindi sul fronte della possibile sospensione dell'attività da parte dell'autorità prefettizia c'è ancora da aspettare. Ci potrebbe essere però la possibilità di un'ordinanza sindacale da parte del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sulla base di un parere della ASL Toscana Sud-Est che parla di un rischio aumentato di contagio per chi va in piscina a nuotare. Di certo la chiusura di una struttura che offre un servizio pubblico non è semplice e si stanno pensando soluzioni che ne consentano comunque l'accesso da parte dei cittadini. Ne abbiamo parlato tante volte in giunta sia con l'assessore Scapecchi che col sindaco, quindi cercheremo di attenuare i disagi, però quale che sia il disagio, nessun disagio ammette di non rispettare le regole laddove queste regole sono rispettate da tutti e soprattutto hanno come elemento la sicurezza delle persone. Quindi in questo momento si va nell'ordine di principi e di diritti. Il primo diritto è essere sicuri, il primo dovere è rispettare le regole. Nessuno può nascondersi dietro un servizio, dato male, per sgattaiolare la giustizia. No, non è possibile.